Amico mio, il paradiso non è qui, qui c'è lavoro e sopravvivere si può. Un'altra lingua, un altro modo di pensare, se non ti abitui è anche facile morire. Il vino costa un occhio, un po' non è un branche, le donne invece qui ci sono anche per te. Sono diverse dalle nostre, lo vedrai, il lunedì non sa nemmeno più chi sei, è veramente tua e non sono state mai. Per questa gente non siamo quelli del salame, che con noi qui ci chiamano spaghetti. Prima di noi c'è stata troppa gente infame, per cui sono buoni sono ancora dei corretti. Un nostro amico si è sposato l'anno scorso, e da quel giorno è stato come averlo perso. Sembra felice, si è comprata anche la casa, e la domenica coltiva le sue rose. Però talvolta ci saluta anche l'inglese. Marie, cosa ho fatto Marie, io qui, e tu là, cosa ho fatto Marie? Marie, ho paura di averti perso, scrivi per carità. No. 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 Grazie a tutti.